...sin dai primi momenti all'assessore Marco Senatore, quindi si arriva alla zona del nord della città, quindi arriviamo al Viale degli Aceri, al Barco Beethoven, ma soprattutto per dare la possibilità a tanti imprenditori di espletare, di esercitare un loro diritto, quello di implementare e di ampliare le loro attività, con un contributo a fondo perduto. Devo dire innanzitutto grazie al Consorzio e al Presidente Aldo Trezza perché da una segnalazione che mi ha fatto pervenire circa qualche sfasatura tra, parliamo della delibera del 2009, tra alcune zone di Cava dei Tirreni e le planimetrie che erano state depositate, ci ha chiesto quindi di rivedere la riperimetrazione. Ma devo dire che da questo poi è nato anche da un'altra esigenza, e cioè la riqualificazione di Piazza Abbro, la riqualificazione di via Marcello Garzia e di via Le Crispi, mi ha fatto nascere anche questa idea, poi condivisa da tutta l'amministrazione e anche dal Sindaco, che contenitori importanti di Cava dei Tirreni erano fuori il centro commerciale naturale. Penso al tennis, penso al club universitario, penso al polmone verde della villa, chiamiamola vecchia, penso al ex mercato coperto, e chiaramente questi sono tutti i contenitori che il Consorzio e il centro commerciale naturale potrà sfruttare perché sono grandi contenitori culturali. E qui chiaramente poi si è visto anche altro, e cioè che c'erano delle zone, commercialmente parlando, e non solo, di Cava dei Tirreni, che erano escluse da questo perimetro e mi sembrava poco conso. Oggi abbiamo una riperimetrazione molto più congrua, molto più ben definita, perché siamo arrivati fino a Parco Beethoven, abbiamo compreso anche via 25 Luglio, all'interno di questo perimetro, perché andiamo anche quindi con Viale degli Aceri, quindi poi magari ve lo farò vedere dopo, meglio in conferenza stampa, ci sono anche dei centri di grande distribuzione, cioè si completa. Abbiamo anche un'altra villa, perché abbiamo un altro polmone verde, perché è Villa Schwerth, quindi vediamo che si sta concretizzando un centro commerciale naturale che ha tutti i requisiti per essere definito, a mio parere, uno dei migliori centri commerciali naturali della Campania. Tutto questo mi hanno detto, ci sono stato riferito in poche ore. Tutto questo nel giro di due giorni, sì, perché l'amministrazione, il sottoscritto è uno che non ama perdere tempo, anche perché c'è la necessità, abbiamo una scadenza che è il 31 marzo, dovevamo presentare questa nuova riperimetrazione alla Regione, chiaramente entro il 31 marzo c'è anche da presentare il nuovo bando della linea A e anche il nuovo bando della linea B. Abbiamo tutti gli strumenti, adesso credo che effettivamente allargando soprattutto a parti della città, Corso Mazzini e Parco Beethoven, dove ci sono delle realtà commerciali importanti, ci sono anche delle persone che lavorano per il bene del commercio a Cava di Tirreni, penso a Franco Foscari per esempio, il quale sicuramente darà un input a questo consorzio e faremo sì che il consorzio e grazie al consorzio Cava di Tirreni venga conosciuto ancora in Campania. Uno dei primi provvedimenti, appena lei divenne sindaco, fu proprio quello del centro commerciale naturale. Oggi ci ritroviamo a parlare di centro commerciale naturale e di novità sullo suo fronte. Sì, il 30 aprile del 2010 scadeva il bando del centro commerciale naturale, io avevo preso la carica dal primo aprile, quindi in 30 giorni riuscimmo a partecipare a questo importante bando che concretamente sta per dare i suoi frutti perché nelle prossime settimane è concluso l'appalto di Borgo e Luce che si inizierà proprio con la sistemazione dell'arredo nel centro di Cava, i cestini, alcune panchine dove è possibile, dei totem per informazione pubblica, eccetera. Oltre all'attuazione del primo bando, del centro commerciale naturale, in questi giorni proprio l'amministrazione sta partecipando ad un nuovo bando legato all'iniziativa che viene presentata in questa conferenza stampa che è quella dell'allargamento del perimetro del centro commerciale naturale che non è più rivolto solo al centro cittadino nel senso stretto ma anche ad alcune realtà che ormai si stanno integrando con il centro. Ovviamente questa integrazione è anche frutto dell'allargamento del centro a causa dei lavori che si stanno completando, la pavimentazione del corso che è arrivata fino alla scuola Mazzini, ovviamente fa entrare nel concetto del centro cittadino anche le attività commerciali che vanno fino al Parco Beethoven. I lavori che si stanno facendo a Piazza Abbero e a Viabilità Limitrofa in qualche modo ricongiungono in un'unica unità economica, culturale non solo la Piazza Duomo e Portici ma anche Piazza Abbero e la viabilità d'intorno, via Lecrispi, via Marcello Garzia. Per cui ci sarà questo allargamento nel perimetro del centro commerciale naturale che consentirà anche agli imprenditori che operano in quest'area di avvantaggiarsi delle opportunità e dei finanziamenti che il centro commerciale naturale offre. Ovviamente questo presuppone l'adesione al consorzio qui attualmente adescono 55 aziende ma che ci auguriamo possa crescere nel numero perché vuol dire che più aziende di Cava potranno avere questi finanziamenti e partecipare a questa fase di rilancio importante dell'economia cittadina che è fatta di opere ma è fatta anche di attività commerciali che devono proiettarsi su scala provinciale.